Commozione, ricordi e propositi. La scomparsa di Roberto Maroni colpisce il cuore della Lega e più in generale di tutti coloro che hanno condiviso con lui battaglie e progetti, politica e passione, sport e musica. Una vita piena quella del Bobo, specie per chi a Varese non lo vedeva come un ministro o un governatore, ma come un concittadino energico, acuto e spiritoso. Si è a lungo parlato di lui nella diretta Facebook organizzata dai cosiddetti cialtroni, denominazione autoironica coniata da Guzzetti, Colombo, Sandroni e poi Calella, Nura e Fagioli che di cialtronerie in verità non ne dicono affatto e che con l'aiuto di ospiti prestigiosi hanno dipinto un quadro dell'amico scomparso e dell'eredità politica da onorare. Tra i presenti l'esponente leghista Gianluca Pini, alcuni storici militanti e soprattutto il governatore Attilio Fontana legato a Maroni da 45 anni di rapporto personale prima che politico. Lo incontrai un giorno che era venuto in tribunale per cercare di capire come si doveva muovere, iniziamo a parlare, iniziamo a organizzare un po' di iniziative, lavoravamo insieme un po' di tempo e poi facciamo anche delle belle cose perché insieme giocavamo al pallone, insieme ascoltavamo la musica. Per rendere omaggio alla persona servono calore e affetto, ma per rendere giustizia alla visione politica di Maroni serve una riforma, anzi una parola che attende da anni di tradursi in fatti, autonomia. Difficile? Forse, ma il bobo non era tipo da rendersi. Maroni aveva una particolarità e cioè quella che qualunque problema non era mai un problema, lui aveva sempre la strada per risolverlo e lo faceva con semplicità, con leggerezza, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Era sempre ottimista, aveva sempre quel sorriso che ti allontanava ogni preoccupazione, ogni difficoltà.